Si è incatenato simbolicamente questa mattina di fronte al Comando Generale della Polizia Municipale ai piedi del Campidoglio il Presidente del Movimento Italia dei Diritti Antonello De Pierro. Trasferimento e avvicendamento intercomunale per i vigili urbani e dipendenti degli uffici tecnici del Comune. Questa è la richiesta della rappresentante che da diverso tempo chiede inutilmente udienza al Comando Generale dei Vigili senza essere stato mai accolto. Il silenzio istituzionale non ci fermerà, ha dichiarato De Pierro, sottolineando come la battaglia dell'Italia dei Diritti relativa alla proposta di rotazione periodica intermunicipale di vigili urbani non si arresterà. L'unico ad essersi dichiarato disponibile ad un incontro è stato il Comandante di Ostia, Marco Giovagnorio. Portiamo avanti, ha continuato De Pierro, questa proposta alla luce delle troppe denunce, suggerendo poi come possibile soluzione l'alternanza del corpo interno alla Polizia Municipale ad ogni cambio di amministrazione capitolina e quindi ogni cinque anni, per evitare la possibilità che politiche clientelari possano diventare parte integrante del corpo municipale. È una proposta soprattutto che è mirata anche a salvaguardare i vigili urbani che invece il corpo stesso della Polizia Municipale, glorioso corpo direi, che in qualche modo salvaguarda l'immagine anche da eventuali tentazioni di personaggi, cellule magari deviate, magari poche però sicuramente ci sono, che possono in qualche modo compromettere l'immagine appunto del corpo di Polizia Municipale. A sostegno della richiesta di De Pierro, oltre al responsabile dell'Italia dei Diritti del decimo municipio, Francesco Bartolozzi, anche il segretario romano dell'Italia dei Valori, Roberto Soldà. De Pierro poi questa mattina, mentre era incatenato, ha ricevuto, quasi a sorpresa, la disponibilità da parte del Comando Generale di essere ricevuto. L'essito dell'incontro tra De Pierro e il vicecomandante Diego Porta ha avuto un esito positivo, segnando l'apertura di un dialogo tra le parti. Intanto lunedì scorso il responsabile del Movimento Italia dei Diritti aveva chiesto anche un incontro al sindaco di Roma e da oggi, mentre si attende la risposta dal Campidoglio, inizierà una raccolta firme per una petizione.